Federico, oramai tutti ti conoscono come l'uomo delle fughe, anche oggi tenterai una fuga alla sera? Ma vedremo come andrà la partenza, sì, un piccolo obiettivo è anche la partenza di andare in fuga, però vedremo un po' come si evolverà la situazione e se capiterà faremo un po' di chilometri in fuga. Hai dimostrato di essere super con questo passaggio tra i professionisti con la maglia della lama? Ma sì, sto sempre crescendo sempre bene e niente, cerchiamo di fare quello che mi chiedono al meglio e quindi a Tirreno è successo che sono andato più di qualche chilometro in fuga e oggi vedremo. Anche perché c'è il Cimo là e che questa Sanremo la vuole vincere? C'è il Cimo molto concentrato e speriamo che a Sanremo riusciamo a fare quello che aspettiamo.